Sulla piscina comunale manterrà quel pugno di ferro che aveva detto e annunciato anche per bar e ristoranti? Ma io non ho un pugno di ferro, voi me lo attribuite e mi fate anche un complimento con questo, visto il mio carattere e la mia indole. Io non faccio altro che applicare le regole, io faccio parte di una parte politica che ha come obbligo primo quello del rispetto delle regole. Se le cose non vanno bene bisogna cambiare le regole, non bisogna eluderle e quindi venendo al caso di specie è scritto espressamente nel decreto piscine e quindi non c'è storia, dobbiamo entrare soltanto avendo il Green Pass. Abbiamo parlato stamattina proprio con i gestori, rimangono fermi delle loro posizioni, dicono siamo nei termini di legge perché il Green Pass viola la Costituzione e le leggi europee. Questo è un problema che riguarda l'emissione e la validità del Green Pass, nel momento che in una legge italiana c'è scritto che per avere accesso a certi luoghi pubblici occorre essere muniti dei Green Pass, io devo far applicare quella regola, altrimenti sarei io a omettere un servizio che devo fare per la popolazione.